bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti che dire finalmente ci siamo un po eravamo scettici non avevamo ben capito ma da ieri pomeriggio è ufficialmente iniziato il winter fest tanti regali tante ricompense e tante novità anzi tanti graditi ritorni per un sacco di cose che fanno divertire davvero tanto su fortnite questo conferma che epic games ci ha preso un'altra volta in questa season che comincia seriamente a diventare una delle più divertenti degli ultimi anni nel video di oggi parleremo anche di un sacco di leaks sta per succedere qualcosa per quanto riguarda la storia in principale e vi farò vedere anche dei premi che si possono ottenere che non c'entrano con il winter fest prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio di una modifica che sta per accadere in mappa come sappiamo qualche giorno fa è apparso il primo portale che non si può ovviamente utilizzare ma che ci mostra uno squarcio proprio nella mappa è nel confine dove c'è il fiume quello che ti porta fino a pantano e si vede dall'altra parte una città che alcuni dicono essere borgo allegro beh ragazzi da ieri pomeriggio con l'arrivo appunto del winter fest come vedete nell'immagine un'altra scia sta uscendo dallo zero point quindi probabilmente troveremo un nuovo portale cercheremo di capirci qualcosa in più non appena sarà disponibile e vediamo che cosa sarà il collegamento con un'altra dimensione ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che nel winter fest sono arrivate anche tutte le sfide ci saranno sfide nuove ogni giorno che regaleranno appunto un sacco di roba backpack piccone scoperture adesivi due skin questa ragazzi è un'immagine per farvi capire dove sono tutti i tutte le location dello snowmando quindi la nuova skin dedicata all'inverno tornano ovviamente negli outpost che sono appunto quelli da visitare gli aeroplani ne parliamo fra pochino perché sono tanta tanta roba ne andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché forse non lo sapete ma c'è stata anche una modifica per quanto riguarda il costo in lingotti d'oro per l'acquisto delle armi esotiche presso gli npc quindi i personaggi quelli con cui possiamo interagire nella nostra mappa 400 per la pistola silenziata 600 per il fucile da cecchino così in realtà come 600 l'rpg 600 anche per lo spara palle di neve che quindi è un'arma esotica io non l'ho ancora provato in game 400 per la pistola con il mirino devo dire che sono assolutamente contento per questo nerf chiamiamolo così al costo delle armi esotiche perché alla fine non si trova quasi mai nessuno che spende dei gold per ottenere una di queste armi speciali stiamo a vedere se per caso epic games ci ha preso e adesso ne potremo vedere un po di più in giro per la mappa tra l'altro parlando di armi un'altra cosa è stata modificata e si tratta proprio del pompa del drago il dragon shotgun che anche questo nonostante abbiano aumentato qualche giorno fa lo spawn rate dell'arma stessa nelle varianti ovviamente epica e leggendaria fa fatica ad essere utilizzata e fa ancora più fatica ad essere trovata in giro beh ieri ha ricevuto un buff ragazzi e come vedete nella versione epica il danno è stato incrementato da 13,3 a 15,2 e hanno però anche aumentato il knockback dovrebbe essere il rinculo dell'arma per quanto riguarda la versione leggendaria invece il danno è stato aumentato da 14 a 16 il che davvero penso che si tratti per ogni singolo colpo in modo che vi faccio capire bene qual è la moltiplicazione da fare per capire il danno vero vediamo se anche in questo caso epica ha avuto una buona idea appunto nell'aumentare il danno e nel rendere un po più golosa diciamo quest'arma anche se secondo me il problema principale è il tempo di ricarica è vero che è fortissima perché se ti piglia con un colpo ti rovina lì ti incendia ti toglie tantissimo switch al volo sulla mitraglia o sulla r e laseri però un tempo di ricarica alto come quello di questo fucile a pompa secondo me ancora è da abbassare perché difficilmente la gente potrà decidere di utilizzarlo andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva una bellissima immagine presente nei file di gioco che come vedete mostra un fuoco d'artificio con la scritta 2021 questa immagine in realtà l'abbiamo già vista ragazzi ed è stata mostrata nell'evento del capodanno dell'anno scorso però è molto interessante il fatto che sia stata riaggiunta perché potrebbe darci diciamo un indizio su quello che sarà il mini evento di capodanno quindi di nuovo fuochi d'artificio che si potranno vedere nel cielo e che serviranno per festeggiare l'arrivo del 2022 staremo ovviamente a vedere è ancora un po presto ma vi faccio sapere io e andando avanti ragazzi eccolo qua uno dei più bei ritorni su fortnite io vi dico se non avete mai provato a guidare un aeroplano su fortnite fatelo perché è super super divertente con l'arrivo del winterfest arrivano appunto anche gli outpost gli outpost sarebbero gli hangar tra virgolette dove troverete i sparsi per la mappa gli aeroplani veicoli sempre un pochettino contestati perché super op per il discorso che puoi tranciare con prepotenza tutte le strutture nemiche ma in realtà dopo aver rimosso gli elicotteri senza quasi neanche dircelo all'inizio di questa season ci sta a riavere un velivolo e tra l'altro ragazzi insieme al ritorno degli elicotteri sono state trovate le immagini aggiornate della air royal una delle modalità più divertenti ve ne avevo già parlato qualche tempo fa sempre in un video news giocatela arriverà a rotazione insieme a tante altre modalità che sono state scoperte e quindi il divertimento e la dinamicità di questo periodo su fortnite saranno assolutamente garantiti e chiudiamo ragazzi molto velocemente con il regalo di cui vi avevo parlato ecco qua uno spray il bangra emot la bangra nanadance si chiama in questo modo lo potete ottenere ragazzi però cercando un codice i codici che la gente vende in giro per il web non dovrebbe costare tantissimo ma la cosa che appunto vi volevo dire è che se doveste riuscire a riscuotere lo spray della bangra cup della bangra bui che andrà come caspita vi pare vi verrà automaticamente regalato anche click pow get down quindi un background musicale che potrete inserire nella vostra collezione personale ed avere per sempre insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao ciao ciao